Ciao, torno a casa dal lavoro e mi dicono che Sandy è scappata e che l'avevano avvistata davanti a casa, davanti alla porta di casa. Guardate qua qual è il risultato, ci avvisano che Sandy è scappata dal giardino, qualcuno ci ha consegnato un pacco che lei ha deciso di sgranocchiare tutto qua della porta, poi il tempo che aspettava qua davanti a casa ha sgranocchiato questo pacco, un pacco sorpresa direi, andiamo a vedere che cosa c'è all'interno e speriamo che Sandy non l'abbia danneggiato. Apriamo la porta e andiamo dai, giavelli. Ragazzi, Sandy è scappata, te sei tremenda, tremenda e ha sgranocchiato tutto il pacco e non lo so, venite a vedere che cos'è. Sono appena arrivati da scuola, cioè sono andata a prenderli da scuola e mi hanno avvisato appunto che Sandy era scappata. Vuoi le chiavi per aprire? Ah, strappi tutto. Se vuoi usare le chiavi come... No, ma non ti conviene là, ti conviene aprire qua, guarda. Piano ragazzi, piano. Guarda. Ah, ma Asia. No, ma conviene aprire qua, ragazzi. Ma Asia sai? No, Asia però chissà che cosa pensava quando vedeva... No, 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 Andrea, stop. Si usa il coltello qua. Dove c'è lo scotch, no? Adesso ti faccio vedere, aspetta. Ah, ok. Riprendi? Sì. Ok, vedi, guarda. Qui c'è lo scotch. No, scotchavo. Perché c'è lo scotch, ma non c'è il burdo. Mi riprendi me ora o prendi la scatola? Aspetta che mi tolgo il cappello. Ma appena arrivati da lavorare, la scuola. Ma tu sei arrivato da lavorare. La scuola. Ma riprendi solo il pacco? Cioè io non esisto, è il pacco più importante di me. Aspetta, c'ho scritto una cosa. Gabbriela c'è scritto. Maggerini, Gabbriela. Sì, andiamo a non riprendere così da vicino al pacco. Allora, vi faccio vedere come si apre un pacco, perché sennò può essere pericoloso. Allora, si prende dove c'è lo scotch. Qui c'è la bolla, che però sarebbe meglio togliere. E ecco qua, scopriamo cosa c'è all'interno. Vai. Aspetta che vi riprendo io. Oh my God. Ma è bellissimo. Guarda, gli sperimenti del volcano. Bellissimo. Draghi e dinosauri. Ah, ma l'Asciani è sempre una garanzia. Che cos'è? Una letta di ingrandimento. Quanta. Bellissimo. Ma che meraviglia. Andiamo da scavare, quindi. Bello. Ne abbiamo qui, eh? Tocchiamo. Beh, adesso siamo stanchi. Dobbiamo aspettare un giorno che siamo tranquilli a casa, magari domenica, e faremo un po' di esperimenti. Ok? Va bene? Ciao. 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 Ciao.